Sono quasi mezzo milione gli elettori chiamati al voto per le amministrative del prossimo 28 aprile in Sicilia. 375.087 quelli chiamati a votare per eleggere sindaci e consigli negli otto comuni con più di 15.000 abitanti. Con il proporzionale si voterà a Caltanissetta, in provincia a Gele e San Cataldo. Nel Catanese unico comune al voto è a Cicastello. In provincia di Palermo, Bageria e Monreale. In provincia di Trapani altri due comuni, Castelvetrano e Mazzara del Vallo. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà il 12 maggio. I comuni che vanno al voto sono sicuramente 35, a cui si dovrebbe aggiungere Longi, in provincia di Messina, dopo che la Corte di Appello Messinese ha confermato la decadenza del sintaco Antonino Fabio. Si sarebbe dovuto votare anche a Pachino, in provincia di Siracusa, ma il comune è stato sciolto per mafia il 14 febbraio scorso. I comuni su cui sarà concentrata l'attenzione del mondo politico sono, oltre all'unico capoluogo, Caltanissetta, Gela, una volta feudo dell'ex governatore Rosario Crocetta, Mazzara del Vallo, Castelvetrano, in provincia di Trapani, Bageria e Monreale, nel Palermitano.